Non solo turismo, ristorazione e attività commerciali di vario genere. Il Covid ha fossato anche i giochi e le scommesse, tanto da causare all'erario un buco da 4 miliardi di euro. Da un lato la chiusura prolungata dei punti fisici nel 2020, dall'altro la crisi economica che non invoglia la gente a giocare. Sta di fatto che le giocate hanno subito una contrazione del 35% con una spesa complessiva che è passata da 19,4 a 12,5 miliardi di euro. Non se la passano meglio neppure il gioco dell'otto e il grattevinci che hanno subito una contrazione del 50%. Questa situazione Covid non aiuta un po' perché comunque la gente sta a casa e non va al lavoro, ci sono pochi soldi in giro e giustamente andarli a spendere per grattevinci o il gioco d'azzardo in genere non è conveniente. E ci sono anche i tabaccai che rinunciano persino a ritirarli. Io personalmente sono due settimane che non prelevo il grattevinci perché in zona rossa la gente non esce e sicuramente preferisce non comprare il grattevinci e comprare da mangiare. Non va meglio col gioco dell'otto. Siamo fermi anche là, la gente ha paura ad uscire e poi il gioco dell'otto comunque richiama quella clientela un po' più anziana, un po' più sai nei tempi passati, nei tempi trascorsi erano sempre loro che giocavano ma adesso sono costretti a rimanere in casa. purtroppo, per fortuna, però chiaramente chi ci rimette poi siamo noi, le nostre attività.